Una serie di iniziative per sensibilizzare soprattutto i più giovani e l'importanza della donazione del sangue. E' questo l'obiettivo della FIDAS di Teramo, in considerazione della costante esigenza di sangue, delle strutture sanitarie e della necessità di sensibilizzare un numero sempre maggiore di persone alla pratica della donazione del sangue. Per questo motivo ha ideato due iniziative rivolte al mondo della scuola e dello sport. Negli ultimi anni purtroppo c'è stato un picco in discesa delle donazioni di sangue, soprattutto nel 2017, un po' perché i fatti noti, gli eventi atmosferici, hanno fatto sì che la città di Teramo si spopolasse e di conseguenza le donazioni sono calate. A fine dicembre noi abbiamo anche fatto un'apertura straordinaria proprio per recuperare un pochino le perdite che avevamo e ci sembrava un pochino di essere risalita, ma in realtà abbiamo chiuso con meno 400 donazioni rispetto al 2016. Abbiamo pensato due programmi, uno allo sport e uno alla scuola. Praticamente tutti i donatori nuovi, giovani donatori, che dal primo di gennaio al 30 giugno si presentano in un'associazione e donano con più donazioni, riceverà la scuola, al primo premio c'è una lavagna LIM, il secondo premio un computer, il terzo un videoproiettore. La stessa cosa per le associazioni sportive. L'associazione sportiva che manderà più donatori nuovi e poi con più donazioni, il programma ovviamente è consultabile sia sulla pagina Facebook della FIDAS che in associazione, riceverà il primo premio, un buono di 1.500 euro, il secondo di 1.000 e il terzo di 500. Questo ovviamente è proprio per incentivare la donazione e soprattutto i nuovi iscritti. Poi abbiamo anche un altro concorso che è stato ripetuto nel corso degli anni, indirizzato a tutte le scuole, che praticamente tutti quelli che entro il 10 aprile manderanno un tema che riguarda ovviamente la donazione, che può riguardare narrativa, poesia o disegno. L'associazione si riserva di giudicare con una propria giuria e di conseguenza dopo ci sarà una specie di festa, così per la scuola che avrà ottenuto il miglior punteggio. E così proprio noi partiamo dai bambini piccoli fino ad arrivare ai grandi, proprio perché è da piccoli che si educano i bambini alla cultura della donazione. Noi abbiamo tante attività in corso, uno di queste è il doposcuola che qui in associazione abbiamo riservato prima ai figli dei donatori e poi abbiamo stesso anche agli altri, tenuto da un team di insegnanti di tutto rispetto, alcune sono in pensione, altre ancora esercitano. Poi abbiamo in programma anche una serie di attività, una che ci tengo a dire, anche se è ancora in embrione, è una serie di incontri per incentivare, per educare i bambini e poi anche gli adulti, i ragazzi, eccetera, alla cultura del dono, della solidarietà, del senso civico. Una serie di incontri tenuti ovviamente da persone di tutto rispetto che ne parleremo più avanti perché è ancora in embrione. Speriamo con questo concorso, soprattutto nelle scuole, di avere quanti più ragazzi possibili. Noi costantemente andiamo nelle scuole grazie ai direttori scolastici che ce lo permettono e diciamo che molti ragazzi stanno venendo. Purtroppo però non basta. A Teramo sono circa una ventina i parcheggi gratuiti creati a ridosso del centro storico in circonvallazione Ragusa e in via Oberdan. Una buona notizia per gli automobilisti che ogni giorno sono alla ricerca di un parcheggio. La scelta fatta dal commissario straordinario del comune di Teramo, Luigi Pizzi, ha come obiettivo quello di equilibrare i parcheggi a pagamento con quelli gratuiti. Una situazione su cui i commercianti del centro si sono detti assolutamente favorevoli, anche se c'è bisogno ancora di alcuni accorgimenti per aumentare il ricambio in centro e favorire il parcheggio. Più posti macchina è un vantaggio per il centro storico, però una ventina non è che risolve i problemi annosi del parcheggio a Teramo e soprattutto in centro storico. Noi diciamo che nel prossimo futuro, soprattutto la nuova amministrazione comunale che comunque nella prossima estate ci sarà, dovrà rivoluzionare completamente il sistema dei parcheggi cittadini per facilitare sempre di più la sosta in centro storico e a tempo. Soprattutto deve rivedere le scelte fatte dall'amministrazione Bruc da segnare nei quartieri i parcheggi riservati ai residenti, sia perché le norme sul traffico queste cose non le regolano e non le prevedono e nello stesso tempo sono posti stanziali che vengono tolte alla economia cittadina perché è impossibile altrimenti combattere alla pari con la distribuzione commerciale della periferia della città in quanto in tutti i posti commerciali e della periferia sia della grande distribuzione sia della media distribuzione chiunque può parcheggiare facilmente e a titolo gratuito. Ovviamente voi chiedete l'inserimento dello stallo a tempo? Sì, innanzitutto per questi nuovi parcheggi chiediamo che quanto prima prevedono lo stallo a tempo al limite anche una sosta, non dico ogni ora ma un cambio ogni due ore visto che stanno un po' fuori mano proprio dal centro storico perché ci serve il ricambio perché altrimenti chi prima arriva occupa il posto e poi lo occupa per tutta la giornata e all'economia cittadina soprattutto commerciale non crea nessun vantaggio. Partiranno presto i lavori nel comune costiero di Pineto per la costruzione di quattro rotonde un'importante modifica alla viabilità che porterà ovviamente a smantellare i semafori lungo la statale adriatica rendendo così più fluido lo scorrimento del traffico verso il centro del paese. L'opera che sarà realizzata dall'ANAS in un primo momento interesserà gli incroci principali tra Pineto e Atri e Pineto e Mutignano per poi estendersi negli altri punti. Il sindaco Robert Verrocchi ha annunciato che presto verranno appaltati i lavori di realizzazione delle prime tre nuove rotatorie due andranno a sostituzione dei semafori del bivio per Atri e del bivio per Mutignano una terza sarà realizzata a Scerne nei pressi del bivio che conduce la zona industriale mentre allo studio ma già in fase avanzata la realizzazione della quarta rotatoria che verrà situata all'incrocio con via Martella nella zona antistante il Conad. Ora quindi la parola passa all'ANAS che gestirà nei prossimi mesi i tempi e modalità di rimozione degli impianti semaforici per dare definitivamente il via alla costruzione delle nuove rotatorie. Dopo quello di Firenze anche il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato inammissibile il ricorso d'urgenza contro il Rosatello un bis la nuova legge elettorale con la quale il 4 marzo andremo al voto per Camera e Senato dunque anche il Palazzo di Giustizia Quilano ha ritenuto non esserci il cosiddetto periculum immora in quanto è un fatto che le elezioni politiche sono state già indette e si ternano tra poche settimane nessun rischio dunque per la procedura elettorale a presentare i ricorsi è stato l'avvocato lo Paolo Colasante con la consulenza di Enzo Di Salvatore professore associato di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo per conto dei deputati di Alternativa Popolare Massimo Artini ex Movimento 5 Stelle e dell'Onora Bechis ai quali si è aggiunto l'abruzzese Stefano Moretti i ricorrenti hanno annunciato che non si arrenderanno dopo questa pronuncia cautelare e proseguono nella battaglia contro il Rosatellum aspettando le decisioni del merito allora avviso la incostituzionalità evidente sotto vari profili già censurati dalla giurisprudenza della consulta dai listini bloccati alle pluricandidature fino alle soli di sbarramento il Tribunale dell'Aquila ha sostenuto che sia inammissibile cioè non è entrato per niente nel merito della questione ma ha ritenuto che ormai le elezioni sono fissate si andrà al voto il 4 marzo e quindi è inutile appunto chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi ora perché i tempi non ci sarebbero questo non toglie che però ci sarà modo di entrare nel merito della questione il 28 febbraio prossimo lo stesso Tribunale ha già fissato l'udienza per il merito dopo questa data è plausibile probabile che la questione venga rinviata dalla Corte Costituzionale ormai si sarà già votato e quindi poi occorrerà vedere cosa dirà la Corte Costituzionale anche se un precedente in questo senso ce l'abbiamo perché la Corte ha sostenuto in passato quando ha bocciato il Porcellum che il Porcellum fosse legittimo che però ormai essendosi già votato e quindi il Parlamento già perfettamente funzionante occorresse salvaguardare il principio di continuità dell'istituzione parlamentare quindi credo che a questo punto non se ne esca dalla questione piuttosto sarebbe da riflettere se non sia il caso invece di ripensare in parte questo sistema non elettorale il sistema ed eccesso alla giustizia costituzionale e chiedersi se non sia il caso di sottoporre di fare in modo che la Corte Costituzionale si pronunci prima che la legge esplichi i suoi effetti per la verità questo era già contenuto nella proposta di revisione costituzionale sulla quale già siamo andati al voto questo era uno dei pochi punti che mi convincevano teniamo presente anche un'altra cosa che Roma ha fissato il Tribunale di Roma anche esso ha fissato già l'udienza per il cautelare fine febbraio 21 febbraio per la precessione anche se ovviamente questa udienza non servirà a nulla ormai appunto il 4 marzo si voterà però già abbiamo chiesto al Tribunale di Roma di fissare l'udienza per il merito e lo stesso faremo con Firenze Nel Comune Costiero di Tortreto sarà presto attivo il dispositivo web per il whistleblowing il sistema volto ai dipendenti pubblici che permette di segnalare illeciti nella pubblica amministrazione dando così seguito ad una recente delibera di giunta il Comune ha provveduto con una spesa di poco superiore ai 1000 euro ad acquistare sul MEP il mercato elettronico della pubblica amministrazione di sistema che permetterà di garantire l'anonimato per i dipendenti che effettuano segnalazioni per illeciti e reati ai quali viene a conoscenza per ragioni di lavoro è un sistema online che l'amministrazione ha attivato per ricevere segnalazioni relative agli illeciti e quindi questo in esecuzione alla legge 179 del 39 2017 quindi viene garantito l'anonimato e queste segnalazioni arrivano telematicamente al responsabile della prevenzione della corruzione e nel nostro caso è il segretario comunale riveste questa figura possiamo dire che è un'assoluta novità per tutto il territorio regionale che entrerà in vigore sì sì è brevissimo già abbiamo dato quindi la ditta ha già provveduto a fare questo diciamo quando deve fare insomma quindi a breve sarà esecutiva finalmente buone notizie sul fronte CIRSU perché saranno tolti i rifiuti dall'impianto di Grasciano a Notaresco ad annunciare questa importante notizia è stata la regione Abruzzo che nella serata ieri ha trovato una soluzione per il futuro dei rifiuti ancora custoditi nell'impianto si tratta di 3.000 tonnellate di sovvalli residui del rifiuto urbano trattato che fanno capo l'attività exogesa e di circa 9.000 tonnellate di frazioni derivanti dal trattamento di rifiuti organici di competenza del CSA finalmente un problema ormai di storia ormai antica forse trova soluzione quello che dicevamo che quell'impianto una volta chiuso deve essere pulito e sembra che così sarà fatto questa sera ci sarà un incontro per la sicurezza pubblica e lì la regione penso che si assumerà quello che sta scrivendo quello ecco di rimuovere l'intera piattaforma piena di rifiuti ecco si parla di circa un milione di euro sarà qualcosa in più però è un risultato importante oramai tutto oramai c'è sfiducia tanto non si fa nulla per la gente e per il popolo invece questa è la dimostrazione io sono guarda c'è anche un po' di emozione perché 4 anni di intenso lavoro solo e solamente per il territorio e la gente ecco se si vuole fare le cose vengono fatte ecco volere è potere e credo che questa cosa sarà un importante risultato adesso non voglio fare l'annuncito perché io lo leggo stamattina sui giornali questa sera ci sarà questo incontro però ecco è una vittoria del territorio dell'ambiente e della gente ecco se noi governiamo per i territori i risultati arrivano una volta ripulito l'impianto cosa accadrà lì? ecco qui era il terzo punto che dicevo ecco l'impianto non poteva più ospitare i rifiuti adesso ci sarà quello che è importante per l'ambiente per le emissioni d'origine la pulizia adesso c'è il tribunale che dovrà decidere la giustizia fra il suo corso e deciderà chi sarà il gestore poi come sempre ho detto se in quell'impianto chi sarà il gestore non farà milioni di euro di investimento creerà una piattaforma come esiste nel Dord allora si potranno lavorare i rifiuti ma se non faranno gli investimenti quel polo rimarrà chiuso potrà diventare un parcheggio per la nuova zona industriale che sta nascendo qui a Notaresco la situazione critica delle strade della provincia di Teno potrebbe far saltare la tappa terramana del Giro d'Italia una situazione su cui la piccola frazione terramana di Miano spera e sogna da tempo visto che il programma ancora provvisorio prevede il passaggio della carovana rosa il 15 di maggio per poi arrivare a Termocittà un evento ma anche un'opportunità che i residenti della piccola frazione non vogliono assolutamente perdere per questo motivo è nato il comitato 15 maggio per il Giro d'Italia che sta lavorando con lo staff rosa tecnici e mondo della politica locale per trovare delle soluzioni è un problema non di oggi perché il terremoto e le nevicate hanno ridotto un territorio che era già manomesso in condizioni difficili abbiamo convocato questa sera a Miano i consiglieri regionali del terramano perché nelle polemiche anche sui giornali di questi giorni pare che la regione abbia messo in circolazione diversi milioni per la sistemazione della viabilità ma del per lato il sindaco di Castelli e anche il presidente della provincia questi milioni ancora non si vedono certo che se il 15 di febbraio che è stata già riconfermata una riunione tra la RCS la Rizzoli Corriere della Sera che organizza il giro e le due province Teramo e Pescara con i tecnici per eliminare le criticità che hanno riscontrato nel sopralluogo diventa tutto più complicato perché la data del 15 maggio si avvicina e se le strade dovessero rimanere così molto probabilmente il territorio terramano perderà questa grande occasione di avere un palcoscenico internazionale per il suo territorio e per quello che significa anche per lo sviluppo il turismo e tutto il resto ecco perché noi stasera ci aspettiamo un impegno dei nostri rappresentanti regionali per sbloccare questa situazione o perlomeno per renderla un po' più rosea un po' più 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 un po' più